Un saluto a tutti gli amici di smartworld.it, siamo allo stand WeThink e stiamo provando, stiamo guardando il nuovo Steel HR. Come fa a intuire il nome? HR sta per battito cardiaco, c'è quindi adesso un sensore di battito cardiaco sulla parte inferiore. Il design è molto simile all'attività che abbiamo già recensito, ne abbiamo provato la versione pop. Adesso abbiamo un tasto qui di lato che permette di scorrere fra le varie informazioni, quindi la data, il battito cardiaco, l'ultima misurazione qui era 82, qui abbiamo i passi compiuti durante il giorno e come nell'attività qui abbiamo questo selettore circolare che mostra comunque quali sono in percentuale rispetto al totale i passi compiuti durante la giornata. Abbiamo poi qua i chilometri percorsi, le calorie bruciate e la possibilità di impostare una sveglia. Il design è veramente classico, quindi come sempre WeThink vuole fare quello che prima di tutto è un orologio classico, adesso però abbiamo anche un piccolo display che mostra anche qualche notifica, ovvero sms, telefonate e impegni del calendario. Questa è la stessa applicazione che avevamo già visto per l'attività, in questo caso come vedete c'è tutta la cronologia dei propri eventi con anche il sonno che abbiamo dormito, compatibile ovviamente anche con Android. C'è anche l'indicazione per esempio, in questo caso c'è stata una singola attività fisica con il tracciamento continuo, lo vedete, del battito cardiaco. È possibile scorrere all'interno di tutto il percorso per sapere qual è stato il battito. Se andiamo su Learn More c'è un help center che poi ci aiuta anche a capire cosa sono questi dati, cosa vogliono dire e come fare a migliorare. In questo caso Steel HR sarà disponibile a 189 euro in questa versione più piccola e 199 euro in questa versione più grande. Per questa rapida anteprima da IFA 2016 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it.